Siamo arrivati sullo spot, Davide sta preparando la barca, abbiamo fatto la prima zingarata Il supporto per elettrico davanti, l'ho girato anche al contrario in modo tale che quando sarà in prua avrò la staffa qua dritta, comoda per utilizzarlo anche da davanti, dopo lo testiamo Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi come avrete visto con l'auto del nuovo carrello che abbiamo preso da poco Finalmente è cambiata la storia, non dobbiamo più andare in giro caricati con la barca sul tetto Finalmente col carrello un'altra comodità E oggi siamo sul fiume, proveremo un po' a fare una ricognizione giusto per vedere un po' qualche spot nuovo E facciamo un po' di spinning a quello che viene, aspi, perca, quello che vuole mangiare insomma, vediamo Comunque è il color fango, c'è marrone Questo non sono aglio Ragazzi, piccolo trasferimento più a monte, abbiamo anche già grattato Sento per cambiare C'è l'acqua marrone, anche non ci aiuta nel vedere il fondale, quindi mi sa che andiamo verso valle che c'è il fiume più profondo Ragazzi, siamo spiaggiati I pesci non mangiano e allora, come la tradizione, mangiamo noi Noi, sia che andiamo a break, sia che andiamo a spinning, la cucina c'è sempre Pranzo finito Siamo in Lanca, adesso torniamo in fiume Guardate qua Il nostro crocchio artigianale, motore di prua Ragazzi, siamo tornati con la barca Adesso stiamo andando in po', questa notte ha piovuto Adesso c'è un po' di tempo nuvoloso, quindi potrebbe essere la volta buona che prendiamo qualcosa Speriamo Con me c'è Davide Vediamo come va, siamo fiduciosi Vediamo come va, siamo fiduciosi Vediamo come va, siamo fiduciosi Spergo Spergo aan Sì tiro secondo me ho sentito la botta sono in perca ho sentito la botta grande Davide spettacolo bello anche percozzo adesso ritiri la canna e pesco io ragazzi finalmente finalmente ce l'abbiamo cercato l'inizio della pescata del secondo giorno altra volta a cappotto però questa volta sono bastati pochi lanci facciamo vedere il crestino crestone e li lasciamo e via che inculato dopo il perca faccio lo chef che fa le piedine ok c'è ragazzi siamo tornati nel posto dove è iniziata la pescata e dove abbiamo preso vediamo se la chiudiamo anche vediamo se la chiudiamo anche vado vado ragazzi sono tornato a casa mi sono dimenticato di chiudere il video Davide se n'è già andato come avete visto questa pescata è andata bene subito a pochi lanci abbiamo preso un perca e poi però durante il resto della pescata non si è più visto niente qualche marcatura c'era però non abbiamo capito cosa fossero se erano perca o altri pesci comunque qualcosa per fortuna è uscito spero che questo video vi sia piaciuto come al solito vi chiedo di lasciare mi piace commentate iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao